ciao e benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi presento la maglia da trasferta del real madrid per la stagione 21 e 22 nella versione player quella cioè indossata dai calciatori come potete vedere la seconda maglia del real madrid è di colore blu con questi con queste fantasie queste scritte tra l'altro all'interno troverete anche la scritta madrid le rifiniture come lo stema del club il logo adidas oppure lo sponsor sono bianchi e le strisce adidas il bordo del colletto sono arancioni nel complesso secondo me è una maglia ben riuscita nella mia classifica questa prende 4 stelle poi mi direte voi ad esempio cosa ne pensate siete d'accordo o meno ora vi lascio la parte in cui vedrete tutti i dettagli della maglia ci vediamo alla fine per la per le misure e la vestibilità ciao a dopo come da consuetudine sulle maglie player dell'adidas lo stema del club il logo adidas e il main sponsor sono termosaldati questa versione usa la tecnologia it ready molto bello all'interno del fascione di colore arancio il collo è a v i dettagli del collo sulle maniche sono arancio le strisce adidas sono termosaldate sulle maniche non vi sono bordini finali di lavorazione il retro della maglia è completamente blu in alto c'è questo piccolo logo con la scritta real madrid allora vi è piaciuta spero di sì spero che possiate regalarci un like al video e iscrivervi al canale ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità in cui vedrete le misure della maglia ci vediamo al prossimo appuntamento ciao io sono alto un metro 75 e peso circa 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player